Un saluto ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. La perturbazione che nel weekend interessa il nord Italia e il versante tirrenico per l'avvio della nuova settimana si sposta verso est. Sta portando condizioni di maltempo autunnale su tutto il nostro territorio per la giornata di lunedì con fenomeni a tratti intensi, ventilazione in generale rinforzo e massime in diminuzione al nord, in particolar modo a nord-ovest. Martedì breve tregua ma attenzione perché da mercoledì preannuncio il passaggio di una nuova perturbazione. Per tutti i dettagli precisi vi consiglio di scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.